Molto bene Al, siamo arrivati, qui c'è un po' di piscio che fa sempre bene, tocca che arrivo da te, un po' di piscio. Dove siamo arrivati Al? Oltre i confini. Il dizionario definisce la Malga, cosa c'è scritto? Pascolo tipico delle Alpi orientali italiane. E' in parte di quelle centrali dove soggiornano gli animali, specie bovini, durante l'estate. Il tempo intercorso tra l'alba delle Malghe e questa definizione è un groviglio di vicende che sono gli archivi storici sanno restituire. Prendiamo ad esempio la questione dei confini. Vai! Questo luogo che rappresenta il limite del pascolo tra Malga e Veneggia è Veneggiota. È Veneggiota! Veneggiota è una linea invisibile in cui lo spazio e il tempo prendono forma solo inseguendo antiche tensioni. Bello! Un documento del 22 febbraio 1872 racconta che i comuni di Tonadico e di Transacqua divisero il pascolo tra le due Malga. Ma pensa te! Che fino ad allora era proprietà collettiva. Assieme alla proprietà vennero ripartiti in parti uguali diritti di sfruttamento della legna da fuoco e di quella da opera e dei diritti di pascolo su aria e di proprietà erariale. Sì! Nel 1877 avviene la definitiva confinazione tra il bosco erariale e il pascolo delle medesime Malghe. Ah! Aspetto importante per il valore economico del legname, risorsa da sempre gestita con estrema attenzione dalle amministrazioni forestali. Molto bene! Grazie Ale! Niente caro! Sei sempre il più bello! Grazie!